Buonasera, tre gli avvenimenti politici di rilievo in questa intensa vigilia prenatalizia. Il Consiglio dei Ministri che ha trasformato in decreto la legge contro la fame nel mondo, il voto definitivo al Senato sulla legge finanziaria e il bilancio dello Stato, l'analisi di craxi della situazione economica e politica del Paese nella tradizionale conferenza stampa di fine d'anno. Cominciamo con il Consiglio dei Ministri. La trasformazione in decreto della legge contro la fame nel mondo, approvata ricordiamo ieri sera dalla Camera a larghissima maggioranza e passata all'esame del Senato, è stata decisa per consentirne la rapida attuazione come richiede la particolare urgenza del problema. Prima del Consiglio dei Ministri c'era stato in proposito a Palazzo Chigi un incontro di craxi con il Presidente della DC Piccoli. L'unica modifica rispetto al testo della legge riguarda le attribuzioni del sottosegretario che sarà preposto a dirigere per 18 mesi con le funzioni di alto commissario il nuovo organismo. Resta invece mutato lo stanziamento previsto, 1900 miliardi di lire. Altra decisione del Consiglio dei Ministri è quella di mantenere invariato il prezzo della benzina con una diversa composizione degli oneri tributari relativi. Aumenteranno invece i prezzi di alcuni medicinali e dello zucchero, e sempre in tema di prezzi il Ministro Altissimo ha detto ai giornalisti che il Governo procederà subito a verifiche e controlli per contrastare, se necessario, alcune spinte speculative che sembrano delinearsi in diversi settori. Rincari come quelli preannunciati, ad esempio, per i distini dei bar non hanno, secondo Altissimo, alcuna motivazione nelle nuove norme sull'IVA previste dal decreto fiscale. Fra le numerose decisioni adottate stasera dal Consiglio dei Ministri c'è anche la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza Renato Lodi in sostituzione del generale Chiari. Renato Lodi, generale di Corpo d'Armata nato a Roma nel 1923, comandava da poco più di un anno la scuola di guerra di Civitavecchia.